allora monte scenario fontanelle in effetti io non me ne raccolto forse avevo fatto finta di non vedere dai cazzo eh quel piumotto ma lo schioppettometro è un dry tutto addosso mi sono messo il piumino anche per proteggere lo schioppettometro le tasche aperte vanno bene secondo me è falsato però il test dello schioppettometro così con le piume fontanelle alla diaccio siamo sullo zero è su di zero gradi vorrei tutte le rosate congelate questo quando e se arriverà i disgele sono belle quasi cascate madonna come scrocchia mamma mia com'è croccante doppietto non fatto contro luce c'è chiama di non romba in terra subito è la guffata del secolo nonno me com'è duro in terra semmo sia cemento qui come come scongela un po' è un casino se lo direi io sembra essere rincine tempi d'oro quando si andava per la vigilia non si sa per quale motivo una volta l'anno per vigilia si andava a rincine il parco si è anneviato hopla oh questo l'ho fatto anche le radici bianche sono eh droppolo oh porca mi ero scordato che c'è il sasso dietro l'ho presa a buche ci ha tirato un mezzo moccolo quello si è molto un po' più forte eh ah no il sasso della ceppa guarda che bel rock garden che c'è qua ho disimparato qui poco e sapevo non prova a frenare è come con la macchia sui ghiacci non devi frenare no so buona che ci siamo scardati dai oh si si